Ciao, benvenuta, benvenuto in questo episodio del podcast Italian Time Zone dedicato sempre al nostro viaggio nel tempo, nel risorgimento italiano, quindi al percorso che ha portato all'unità d'Italia. Oggi andiamo a Milano che è una città che io amo molto, una città che conosco molto bene perché è la città in cui ho studiato e ho anche abitato. Prima di iniziare però ti ricordo che se vuoi seguire questo percorso in modo completo, quindi a 360 gradi e con un gruppo di supporto, se vuoi praticare il tuo italiano con esercizi di ascolto, scrittura e parlato, puoi entrare nelle membership for Italian Explorers. Ci sono due opzioni. Uno, la membership Marco Polo che ti aiuta con materiali esclusivi e il lavoro autonomo. Due, la membership Colombo che ti dà in più il mio supporto e un incontro di conversazione al mese. Trovi il link con tutte le informazioni in descrizione. Ma entriamo nel vivo di questo episodio. Oggi andiamo a Milano per vedere cosa significa esplorare la storia attraverso i luoghi. Sì perché quando cammini nelle città italiane sei circondata, circondato dalla storia. La storia è ovunque, nei nomi delle vie, delle piazze, sulle statue, sui palazzi. La storia è ovunque intorno a te, ma se non la conosci giri senza apprezzare fino in fondo ciò che stai visitando. Oggi quindi non vediamo Milano dal punto di vista del Duomo, del Castello o di tutte le altre meravigliose attrazioni che ci sono in città, ma vediamo Milano per strada. Quindi andiamo a capire perché certe vie si chiamano in quel modo e soprattutto che cosa ci raccontano quei luoghi, cos'è successo per quelle strade e come tutto questo si lega al nostro risorgimento. Iniziamo tutto da una espressione italiana. È successo un 48. Questa espressione si usa per descrivere una situazione di caos e confusione, ma questo caos, questo disordine può cambiare l'equilibrio della situazione e quindi portare ad un cambiamento. Questa espressione ha origine proprio nel 1848, hanno caratterizzato da moti e rivoluzioni popolari negli stati italiani ed europei, che hanno portato in alcuni casi alle costituzioni, cioè alla adozione della costituzione da parte del governo. Un esempio è proprio lo statuto albertino concesso, quindi dato, dal re del regno di Sardegna Carlo Alberto al popolo, ai sudditi del regno di Sardegna. Per sapere di più sulla storia di questo statuto e del regno di Sardegna ti invito ad entrare nelle membership, perché potrai ascoltare un episodio speciale ed esclusivo sul tema. Quindi il 1848 è un anno di rivoluzioni e cambiamento e Milano è particolarmente famosa in Italia per il 48, perché ci sono state le cinque giornate di Milano. Cinque grandiosi giornate in cui, scrive Catozzella nel libro italiana, anche le donne avevano preso le armi per cacciare gli invasori austriaci e poter gridare, come in Francia, libertà al popolo. Ed è proprio da queste cinque giornate di Milano che voglio partire per viaggiare per le strade della città. Sì, perché queste cinque giornate hanno dato il nome ad una piazza che si chiama piazza cinque giornate, appunto. E se prendi una cartina, una mappa della città, puoi vedere come intorno a piazza cinque giornate ci sono altre vie, con nomi che raccontano il risorgimento. Ad esempio, da piazza cinque giornate puoi prendere corso 22 marzo, ultimo giorno delle cinque giornate rivoluzionari di Milano. E poi prendere la terza strada sulla sinistra, che si chiama Via Pietro Calvi. Pietro Calvi è stato un patriota italiano, attivo nella resistenza armata, legato a Giuseppe Mazzini e uno dei martiri di Belfiore, nel 1855, che quindi è morto per gli ideali di un'Italia unita. Se poi continui a camminare lungo Via Pietro Calvi, arrivi direttamente in piazza Risorgimento. Infine, puoi attraversare la piazza e all'incrocio con Corso Indipendenza prendere via Carlo Pisacane. Carlo Pisacane è stato un altro grande patriota italiano del sud Italia, era di Napoli, che ha partecipato ai moti di Milano e Roma nel 48-49. Anche lui era legato a Mazzini e ha tentato la rivolta nel regno delle due Sicilie con la spedizione di Sapri nel 1857. Questo è solo un esempio dei percorsi risorgimentali che puoi fare in città. Ti invito ad aprire la mappa in descrizione ed esplorare la zona risorgimento. Troverai anche una via dedicata a Goffredo Mameli, scrittore risorgimentale e autore dell'Inno d'Italia. Quindi vedi, prendere una mappa e guardare la città da un punto di vista delle sue strade è importantissimo perché ti racconta una storia incredibile. Ti invito a cercare su Google Maps altre vie legate al risorgimento per vedere dove sono in città. Puoi cercare via Mazzini, piazza Cavour, piazza Fratelli Bandiera, ma anche via Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, che hai vissuto proprio in questo periodo. E così via. Per chi è nelle membership preparo io un'attività per praticare il tuo italiano in modo vivo, reale e unico. Il risorgimento è nelle strade di Milano e di tante altre città italiane e per questo motivo c'è chi dice che il risorgimento vive solo nella toponomastica, cioè nei nomi delle strade. E in un certo senso è vero, cioè molte persone in Italia si ricordano di questo periodo storico solo grazie ai nomi famosi e importanti come Mazzini, Cavour, Garibaldi. Ma sono anche convinta che molte persone camminano per le strade e non si fermano a leggere i nomi delle vie, non si fermano a pensare, a cercare quel nome su internet. Beh, oggi ti invito ad essere diversa, diverso, ad essere curiosa, curioso, ad alzare la testa per leggere i nomi delle vie scritti sui muri degli edifici e chiederti sempre perché quella via, quella piazza, quel corso si chiama così ed è proprio lì. Con questo meraviglioso invito ad esplorare virtualmente o di persona Milano o la tua città italiana preferita, ti saluto e ti ricordo che trovi tutti i link utili in descrizione a questo episodio. Se l'episodio ti è piaciuto puoi lasciare 5 stelle su Spotify o iTunes o un commento. Ti ringrazio di cuore per essere arrivata o arrivato fino a qui. Alla prossima!